Farmacie prese d'assalto anche nell'agronocerino sanrese per il boom di casi di influenza e di covid. I sintomi comuni come tosse, mal di gole e raffreddore sembrano non avere fine insieme a problemi respiratori, dolori muscolari e non solo. Questa situazione sta mettendo a dura prova i farmacisti che stanno lavorando intensamente per far fronte alla domanda di cure. Durante le festività in particolare il lavoro dei farmacisti è diventato ancora più gravoso con i centralini intasati fin dalle prime ore del mattino. Noi siamo stati di turno anche il 31 e ci sono vari e svariati, quindi ci sono vari virus influenzali e poi ci accompagna ancora purtroppo il covid. Che però adesso con il grado di vaccinazione piuttosto elevato della popolazione dà dei sintomi pressoché influenzali di nessuna davvero preoccupazione. La popolazione ormai è vaccinata, la vaccinazione recente l'hanno fatta solamente i soggetti fragili, quindi assolutamente no. Quelle che abbiamo fatto stanno fungendo, ci sta difendendo il vaccino.